Il campionato è già iniziato, da due partite purtroppo, però diciamo che adesso ci sono le cose più chiare, insomma anche dentro la rosa, con la fine del mercato, ormai siamo questi, dobbiamo amalgamarci nel più breve tempo possibile per affrontare il campionato nel migliore dei modi. Insomma la Serie A, la Serie A non è la Serie B, su questo non ci piove, però non vuol dire che faremo come abbiamo fatto in queste due partite, insomma adesso cerchiamo di risollevarci subito, di lavorare come abbiamo sempre fatto, con grandissimo entusiasmo. Come ogni partita, insomma, cercare di imporre il nostro gioco, cercare di portare a casa un risultato positivo. Quello che prepariamo durante la settimana, durante la scorsa settimana che c'era la sosta, comunque eravamo già col pensiero a Verona e questa settimana ancora di più per cercare di ottenere un risultato positivo per noi. Poi si sta a salutare nel senso che dopo due sconfitte avvenute, specialmente quella con Livorno in malo modo, per ricaricare un attimo le pile, per fare il pieno al massimo del morale, per lavorare anche sotto il punto di vista tattico e fisico, quello sicuramente. La partita è importante sicuramente perché, come ho detto prima, veniamo da due sconfitte, le prime due partite, e non ci stiamo, cioè non ci va bene assolutamente. Per cui sicuramente sarà una partita dove dobbiamo cercare a tutti i costi di portare a caso un risultato positivo. Noi guardiamo il campo, è logico, hanno un pubblico bellissimo, formidabile che li spinge, però in campo 11 sono loro, 11 siamo noi, per cui noi guardiamo il campo. Grazie.